Ciao ragazzi, oggi torniamo con un video sfogo per una cazzata, però ci tenevo a esporla. Allora, non so se siete mai andati alle elementari o alle medie, ma praticamente vi insegnano come strutturare una frase, come funzionano le virgole, come funzionano i punti, insomma, che una frase contiene diversi periodi. Vabbè, questa roba qua, insomma, ma non dovete per forza sapere tecnicamente, ok, queste cose qua. Però, ok, se dovete mandarmi un messaggio, voi ricordate... ora vi faccio vomitare, ma forse muovermi. Se dovete mandarmi un messaggio, tenete sempre in conto una cosa. Meno messaggi mi inviate per dirmi una cosa, meglio è perché, porca puttana, io non ce la faccio più. Non riesco più a vedermi arrivare 40 notifiche per una frase. Come stai? Tutto bene, ieri sono... ieri ho festeggiato a capodanno, oggi sono un po' stanco, domani vado a vedere i miei amici. Basta una frase. Non che mi devi scrivere... tutto bene. Ieri sono andato a festeggiare capodanno... no, una frase o due. Mi vuoi dire tutto bene, invii... ieri sono andato a capodanno. Non che mi invii un messaggio per ogni parola, se no Dio Cristo mi cado nei coglioni, magari sto a farmi i cazzi miei. C'è il telefono lì accanto e inizia a fare... Perché non sono uno di quegli stronzi che tiene perennemente la suoneria spenta, che se lo chiami è impossibile raggiungerlo. Sembra che abiti sulla luna, non si sa che impegni assurdi abbia un imprenditore di 40 miliardi di euro di impresa. No, è una persona a cazzo di cane, manco 18enne, che giustamente dice no io lo spengo, soprattutto le ragazze, facciamo un secondo sfogo a parte. Soprattutto le ragazze che tengono le notifiche spente, ma non... cioè non si capisce perché sembra che siano tutto il tempo al telefono. E quindi dici vabbè spengo le notifiche perché sto al telefono. Ma se stai al telefono e io ti mando un messaggio, ok, lo puoi ignorare, ma se ti chiamo, se ti mando dei messaggi, cioè è fastidioso, ok, come sensazione. No, io non le metto le notifiche, no, non si sa dove sia la gente, no. Io cerco sempre, quando mi vengono inviati dei messaggi, cerco sempre di rispondere il prima possibile perché mi dà fastidio quando io chiedo una cosa e quello non mi risponde. Ma più che altro perché non è che abbia chissà cosa da fare, se sto al telefono, a meno che non stia facendo qualcosa e voglio finire, tipo facendo una partita a clash, per esempio, e voglio finirla, rispondo dopo. Però rispondo sempre più o meno velocemente, a parte ovviamente se c'è qualcuno a cui non voglio rispondere nello specifico. Ad esempio il bambino polacco di cui vi ho fatto l'esempio qualche video fa, anzi, Sanco89 vi ha parlato di questo bambino polacco. Ecco, ai suoi messaggi rispondo dopo una settimana, ma perché è lui? Non perché so stronzo io. Cioè, sì, so stronzo io, ma dico, ok, lui mi ha mandato un messaggio e non gli rispondo. Non è che faccio così con tutti, semplicemente lui è meglio se aspetta, perché se gli rispondo subito poi mi riempie di messaggi e mi stalkerà come una madonna. Ecco, lo stalking dà fastidio, però se io ti mando un messaggio... C'è della gente che deve rispondere, questo interebbe il conto, quindi ricordatevi. Cercate di riassumere meno messaggi possibili, non che dovete scrivere poco, ma potete anche mandare un audio, a me non danno fastidio gli audio. Ok, mi mandate un audio di 20 secondi, di 30 secondi, di 2 minuti dove mi dite una cosa. Non che mi mandate 47 messaggi diversi. Uno, uno solo, voglio... cioè, è proprio una questione di notifiche, capito? Non voglio avere 40 notifiche da una persona che mi sta chiedendo come va. Se ho 40 notifiche da una persona vuol dire che magari stiamo organizzando qualcosa, quindi mi sta dicendo, tipo, Facciamo alle 4, no? Ho chiesto a lui, cambiamo... cioè, cose controverse, no? O staccate, o ho un tot di tempo fra l'una e l'altra. No, mi mandi messaggi tutti di seguito che io sento il telefono che vibra, che sembra che stia causando un terremoto di magnitudo 8 che sta facendo scuotere tutta la Toscana. Basta uno. E rispondete messaggi, stronzi. A meno che una persona non vi sia sul cazzo. Vi do... siete giustamente... siete giustificati di ignorarlo. Però non disattivate le notifiche per tutti, che poi non vi accorgete se vi chiamano o se vi mandano un messaggio che magari è importante. Mi raccomando. 5 minuti precisi? Ciao, al prossimo.